condo morning si qui adesso sono due e mezza mister master maestro o semplicemente lei è finita, ring, it's march 15, 2021 e it's a, tos daily enables, clear morning, e è ancora ora, cioè, dopo non ormai, è 15.7, fornì è tra onde, 14 celsius, e se mi ha detto, for me, non è quella giornata, veramente, really, really, really cool, like in this day, in this period, and, sì, invito sempre a vedere il mio video sul freddo, ho fatto la scorsa vicenda per capire quali sono le due pratiche che ho utilizzato per cercare non di vincerlo, che è possibile, quantomeno di combattere al freddo, per quanto riguarda il video sui pensieri, come al solito è separato da questo, anyway, as you and you will just see from this window, ok, today we have a, we have a, what's beautiful, what's beautiful, what's causing when it's sunshine, all along the way, bene, ce l'abbiamo altre 4 giorni, speriamo di continuare con questo trend, sit at ease, so, from the mythical window, of my grandfather's house, the palace, of my grandfather's house, and no roller shooter, but whatever, from a mythical window, with the color of the curtain, and it's a green roller shooter, behind the mirror, the top, not visible, and then, infatti, here in this shot, and finally, from the mythical keyboard, the amadigix, 640, IPG, IPG, 625, have a great day in all the people, follow the channel and the reports, un saluto davvero a tutti, ci vediamo al videopensiero, nel caso lo faccio, a domani. Scusate, non urlo perché qua è un po', mi da stare più in silenzio perché per l'orario le persone riposano e sono molto anziane. Magrette dei! Magrette dei! Magrette dei! Magrette dei!